Parliamo quindi di epigenetica e più precisamente di modificazioni a carico della struttura del DNA, responsabile appunto delle modificazioni poi dell'espressione dei geni. Le prime modificazioni che andiamo a vedere sono le modificazioni covalenti a carico degli istoni. Gli istoni sono le proteine basiche intorno alle quali il DNA si avvolge a formare poi la struttura del nucleosoma. Quattro sono le proteine che formano l'ottamo eristonico in doppia coppia, due istoni H2A, due istoni H2B, due H3 e due H4. Sono delle proteine quindi hanno una sequenza aminoacidica che presenta un inizio con l'estremità aminoterminale e una fine con l'estremità carbossiterminale. Le modificazioni che andiamo a vedere sono le modificazioni a carico degli istoni H3 e H4 e precisamente sulla parte amminoterminale della proteina, su quelle che si chiamano appunto code amminoterminali. E sono queste modificazioni responsabili della diversa compattazione della cromatina, per cui la cromatina passerà da più condensata a meno condensata o viceversa. La prima modificazione che andiamo a vedere è l'ascitilazione, ossia l'aggiunta di un gruppo acetile, che è questo qua mostrato in verde, su un residuo di lisina dell'istone H3 e H4 che formano appunto il nucleosoma. Quindi significa che da un aminoacido lisina presente nella coda amminoterminale dell'istone viene aggiunto questo gruppo acetile e quindi l'istone diventa un istone acetilato. E in questa diapositiva si vede l'effetto dell'acitilazione nella zona amminoterminale dell'istone H3 e H4, acetilazione che avviene appunto su questo residuo di lisina della proteina dell'istone H3 e H4. La conseguenza è che la cromatina, che prima è molto più compattata, si rilassa, diventa meno compatta e in questa maniera diventa più accessibile la trascrizione. L'RNA polimerasi può riconoscere il promotore, che è questa zona qui mostrata in viola, cosa che prima invece faceva più fatica, avrebbe fatto più fatica perché era più nascosto il promotore, dato che la cromatina era molto più compattata. Quindi l'effetto dell'acitilazione è, l'acitilazione che qui è evidenziata da queste bandierine, il rilassamento di quella zona della cromatina. Quindi se vengono acetilate delle disine su un istone H3 e H4, quelle zone che erano eterocromatiche diventano eocromatiche. Quindi l'effetto dell'acitilazione porta a un'accensione dei geni, una maggiore trascrizione dei geni che sono compresi in quella zona che viene appunto acetilata. Un'altra modificazione è invece la metilazione. La metilazione avviene anch'essa su alcuni aminoacidi di lisina, ma anche su alcune arginine, sempre nella parte amminoterminale degli istoni H3 e H4. Ma qui la situazione diventa più complicata, perché la metilazione ha effetti diversi a seconda di quali aminoacidi sono coinvolti e in quale posizione. Per cui il quadro è meno semplice anche da descrivere. Ad esempio, la metilazione della lisina in posizione 4, quindi il quarto residuo aminoacidico della lisina dell'istone H3, determina un rilassamento della cromatina, quindi il passaggio da una zona eterocromatica a una zona eocromatica, e quindi l'accensione di quei geni che sono coinvolti in questa modificazione. Mentre invece la metilazione della lisina in posizione 9 dell'istone H3, quindi del non-amminoacido, che è una lisina nell'istone H3, sempre nella posizione amminoterminale, comporta invece una maggiore compattazione della cromatina, e quindi associata a geni che vengono spenti, quindi a una minore trascrizione. Quindi nel caso della metilazione il risultato non è lo stesso e questo è anche responsabile di una modulazione dell'espressione genica, per cui si può, come dire, accendere e spengere il gene, ma anche regolare il livello di accensione. Vediamo ora invece un'altra modificazione che è la metilazione del DNA. La metilazione è una modificazione diversa rispetto a quella che abbiamo visto precedentemente, perché in questo caso è una modificazione, l'aggiunta del gruppo metile, a un nucleotide, alla citosina. Quindi non è una modificazione della proteina dell'istone, ma è proprio una modificazione del nucleotide stesso. E appunto la citosina può essere metilata, quindi può essere aggiunto questo gruppo metile, e diventare una 5-metilcitosina. Questa modificazione avviene solamente a quelle citosine che sono seguite da delle guanine, quindi soltanto in quelle zone del DNA caratterizzate da una sequenza CG e non nelle altre parti. Quindi soltanto le citosine che sono seguite dalle guanine possono essere metilate. Ed è una modificazione che avviene dopo il processo di replicazione del DNA ed è effettuata da degli enzimi che si chiamano DNA metiltransferasi, che appunto attaccano a queste citosine questo gruppo metile. Vediamo il significato della metilazione. La metilazione è presente già nei prokaryoti, per cui il DNA dei prokaryoti è metilato. In questo caso nei prokaryoti la metilazione del DNA ha il significato di proteggere questo DNA dall'azione di endonucleasi o esonucleasi che sono presenti nel citoplasma dei prokaryoti, quindi enzimi che hanno la capacità di tagliare il DNA libero. Il DNA metilato non viene tagliato, quindi il prokaryote riesce in questa maniera a distinguere il proprio genoma dal genoma estraneo, per esempio, di un virus, di un batteriofago che ha infettato questo batterio, per cui riesce in questa maniera a riconoscere quello non metilato come DNA estraneo, a degradarlo mentre non degrada il proprio che è invece metilato. Negli eukaryoti il significato invece è diverso. Il 70% delle citosine sono metilate in tutti i tessuti e in genere la metilazione è associata alla non espressione, cioè geni che presentano citosine metilate non sono espressi, per cui vuol dire questo che in quei tessuti in cui quel gene non deve essere espresso, la metilazione di quel gene fa sì che questo gene non venga espresso. Là invece, laddove il gene deve essere espresso, questo gene non è metilato, quindi c'è una tessuto specificità riguardo alla metilazione. I geni sono metilati nei tessuti dove non devono essere espressi, mentre invece non sono metilati nei tessuti dove devono essere espressi. Ad esempio, i geni housekeeping, cioè quei geni che codificano per quelle proteine necessarie per il funzionamento della cellula, non vengono mai metilati, quindi non vengono mai bloccata la loro trascrizione e la loro espressione. Quindi i geni housekeeping non sono mai regolati tramite la metilazione. Ricordo anche che durante la replicazione del DNA, quando si apre il filamento e uno fa da stampo, il vecchio filamento che fa da stampa è metilato, mentre il nuovo inizialmente non lo è. Questo serve anche come meccanismo per la riparazione del DNA. I sistemi di riparazione, tutti gli enzimi dei sistemi di riparazione, riconoscono il nuovo filamento e controllano quindi l'esattezza dell'informazione sul nuovo filamento, proprio perché è quello che non è ancora metilato. La metilazione avverrà in un momento successivo, quindi la metilazione del nuovo filamento avviene in un momento successivo alla replicazione. E appunto ha questo significato fondamentalmente negli eucarioti di inibizione dell'espressione genica, per cui i geni metilati non sono espressi, ma ha anche una sorta, come nei prokarioti, di protezione nei confronti di sequenze che potrebbero essere parassite, come quelle del trasposone o di DNA di virus che vanno a infettare la cellula. Quindi in maniera tale da riconoscere qual è il DNA proprio dal DNA estraneo, un po' come avviene anche nei prokarioti. Ricapitolando quindi, l'epigenetica permette di spiegare come modificazioni a carico di listoni o a carico dei nucleotidi, come appunto la metilazione delle citosine nel DNA, possa modulare l'espressione dei geni. E possa far sì quindi che anche individui che hanno lo stesso genoma poi abbiano delle caratteristiche diverse. Esiste questo articolo molto interessante in cui è stato fatto uno studio, per esempio, sulle api. e la domanda era come mai ci sono un sacco di api operaie e poi c'è invece la regina. Che cosa differenzia? Cos'è che fa sì che la regina sia diversa dalle altre api? E uno studio appunto ha mostrato che ha una modificazione epigenetica, quindi un epigenoma diverso. L'ape regina, molto probabilmente in seguito a essere nutrita con la pappa reale, ha delle modificazioni sugli listoni diverse rispetto a quelle che hanno le api operaie e quindi svolge una funzione poi diversa che è quella di essere appunto la regina. Qua infatti i ricercatori dicono che questo studio permette di dare la prima documentazione di differenze molecolari che possono generare poi diverso fenotipo a partire da uno stesso genoma. Quindi l'epigenetica può spiegare come partendo da uno stesso genoma, quindi dallo stesso DNA, si possono avere fenotipi diversi. Un altro esempio è lo studio sui gemelli omozigoti. I gemelli omozigoti condividono lo stesso DNA. Ciò nonostante possono presentare poi durante la vita anche patologie diverse. Magari una persona si ammala di una malattia e l'altro fratello, l'altro gemello, no. Che cosa fa sì quindi che questi due gemelli che hanno lo stesso informazione genetica poi in realtà non abbiano lo stesso destino? È stato visto che nel corso della vita le condizioni ambientali, lo stilo di vita porta delle modificazioni epigenetiche del DNA. Per cui durante la vita ognuno di noi modifica il proprio DNA e con queste modificazioni epigenetiche che poi sono responsabili anche di eventualmente la comparsa di particolari patologie. Quindi è vero che i gemelli omozigoti hanno lo stesso DNA, ma non è detto che abbiano lo stesso epigenoma. Un'ultima cosa che mi sembra importante da sottolineare è la differenza tra una mutazione genetica e una modificazione epigenetica. Mentre una mutazione genetica è una mutazione irreversibile, questo non è vero per la modificazione epigenetica. Se un nucleotide viene modificato, cambierà il gene, potrà cambiare l'informazione codificata dal gene, quindi la proteina che verrà prodotta non sarà più funzionante o avrà perso, modificato la propria funzione. Quindi una modificazione a carico di un nucleotide, uno o più nucleotidi del DNA, comporta un'alterazione nella funzionalità della proteina e nella perdita, alterazione dell'espressione di quel gene. Ed è una modificazione irreversibile. Questo non è vero per le modificazioni epigenetiche, che sono invece reversibili. Quindi una modificazione che mi trasforma un gene da eterocromatico a eocromatico e che è determinata per esempio da una situazione ambientale può essere reversibile, quindi quel gene potrà un domani che cambieranno le condizioni ritornare a essere espresso. Quindi l'epigenetica dà luogo a modificazioni che sono transienti, che si cambiano nel corso del tempo. È chiaro che questa parte della biologia e lo studio dell'epigenetica potrà dar luogo piano piano, un domani, una volta che verranno compresi bene i meccanismi, anche a una nuova forma di terapia medica. Pensare delle medicine o dei farmaci che mi possono curare e modificare l'epigenoma e quindi riportare per esempio una modificazione epigenetica a quella che era lo stato originale o invece introdurre una nuova modificazione. e quindi questa è tutta una parte della cosiddetta medicina del futuro. Per chi fosse interessato all'argomento dell'epigenetica qua ci sono dei testi, dei riferimenti bibliografici di alcuni testi dove è possibile approfondire tutto il tema dell'epigenetica andando ancora più poi nel dettaglio delle processi.